Preghiera del mattino Signore Pare Santo, Tu tieni nelle Tue mani il tempo della mia vita. Io Ti ringrazio per questa nuova alba. Aiutami quest'oggi affinché le mie parole non risultino agli altri offensive ma al contrario benefiche. Fa che il mio comportamento sia per loro di esempio, aiuto e forza. Amen.